Inside the staircase è composto da due rubriche principali, una quella di storia dell'arte, l'altra le mostre. La storia dell'arte da quest'anno, dal 2018, conterrà anche una sottorubrica chiamata floor, che in italiano significa piano. In questa rubrica ci saranno degli articoli che non fanno strettamente parte del corso della storia dell'arte, perché così è possibile recuperare degli autori che sono stati tralasciati durante la discesa della storia dell'arte. Ricordo che la storia dell'arte contempla una rivisitazione, una scrittura della storia dell'arte. A partire dal Novecento abbiamo iniziato con Jackson Pollock per arrivare all'arte minimalista, all'arte povera, e poi siamo ridiscesi fino a dove siamo ora, in questo febbraio 2018, cioè al manierismo, in pieno Cinquecento. Così abbiamo passato l'Ottocento, poi il Settecento, siamo scesi al Seicento e ora siamo al Cinquecento. Floor si occupa di articoli, cioè di autori o talvolta anche magari correnti, che sono state tralasciate o non affrontate approfonditamente. Le mostre, invece, l'altra rubrica principale di Inside the Style Case, si occupa di o mostre permanenti oppure di musei, più spesso di musei. Questo significa che ci sono delle... si sceglie una volta al mese un museo oppure una mostra e se ne parla, cioè significa che nel caso del museo si fa un'introduzione generale sul museo, sulla storia, quindi la fondazione, molto spesso il palazzo, il museo infatti ha il contenitore all'interno del quale si trovano le raccolte o le esibizioni temporanee e si danno in ultimo le informazioni di apertura, di biglietteria e anche dove si trova il museo, quindi come raggiungerlo. Chiunque volesse partecipare a Inside the Style Case è libero di farlo, basterebbe magari seguire Inside the Style Case per un periodo per vedere come funziona, ne avete un riassunto adesso in questo editoriale dedicato appunto alla struttura di Inside the Style Case, è possibile partecipare anche alle rubriche video, cioè a Domenica al Museo, l'altra rubrica di Inside the Style Case in cui io visito dei musei, delle mostre, come vedete si è assestata nel 2017, ciò significa che all'inizio era ancora una rubrica in prova, nell'estate del 2017 praticamente ho deciso di dividere Domenica al Museo in una seconda parte che è quella che io chiamo The Book Plate, prende il nome dalla immagine di copertina, quella del gatto che sta guardando un libro, di Edward Penfield e praticamente sarebbe una rubrica di approfondimento. Per quanto riguarda i consigli ai colleghi giornalisti naturalmente non è che ci sia molto da dire, si tratta per quanto riguarda Edward Penfield, cioè The Book Plate, di un servizio di un minuto e mezzo, due minuti, audio video che deve contenere le informazioni principali riguardo della mostra, cioè chi la organizza, chi è il curatore, quali sono gli sponsor e poi una visione di quello che è la mostra o il museo. Per quanto riguarda Domenica al Museo lo vedete sono dei post, sono delle realizzazioni video che sono più che altro dedicate a YouTube, quindi la qualità anche delle riprese non è elevatissima, ma a livello di comunicazione dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda invece i post scritti che sono un po' il mio fiore all'occhiello per Inside the Style Case, vedete che per la storia dell'arte gli articoli si aggirano sulle 3.000-4.000 battute, questo significa naturalmente spazi inclusi, quando gli articoli sono più lunghi io li divido in più parti perché credo che sia più agevole per per chi ne fruisce. C'è poi una cosa che è imprescindibile, quella della del bilinguismo, siete liberi di partecipare con anche un'altra lingua, non l'inglese, io scrivo in italiano e in inglese, ma la partecipazione è libera anche in altre lingue, ciò significa che potete scrivere naturalmente in francese, naturalmente in spagnolo, naturalmente in tedesco senza problemi per quanto riguarda la pubblicazione, anche se magari per quanto riguarda il tedesco vi direi che slitterebbe da quando la presentate a quando lo verrà pubblicato di almeno un mese, questo perché ho bisogno di più tempo per verificarlo. Per quanto riguarda appunto le altre lingue, che io non conosco, avrei bisogno di una traduzione certificata, ma è possibilissimo appunto pubblicarle. Dunque mi sembra di aver detto tutto, ma sì, gli articoli si mandano alla tromba delle scale che ho sulla gmail.com, che è l'indirizzo email di riferimento per Inside the staircase e non è richiesto curriculum né alcuna qualifica particolare. Grazie per l'attenzione, arrivederci!